Buongiorno, eccoci a consueto appuntamento con la rubrica Salute e Benessere. Oggi parliamo di Ottobre Rosa, Andos e azienda sanitaria 3 insieme per la prevenzione. Vediamo i nostri ospiti, Sonia Piller-Roner, che è presidente dell'Andos di Tolmezzo, ed Enrico Vigevani, che è direttore della struttura operativa complessa di oncologia dell'azienda per l'assistenza sanitaria 3, Medio, Alto, Friuli e Friuli Collinare. Buongiorno, grazie per essere qui. Allora, abbiamo detto, parliamo di Ottobre Rosa, edizione 2018. Sappiamo che Ottobre Rosa sarà un po' in tutta la regione, ma in questo caso parliamo in modo particolare di quello che accadrà nell'Alto Friuli e nel Codroipese. È vero? Buongiorno a tutti, grazie per questo invito, per questa opportunità di presentare l'iniziativa Ottobre Rosa 2018. Come è stato appena ricordato, è un'iniziativa che andrà a interessare le donne, tutte le donne residenti nel territorio dell'azienda sanitaria numero 3, e quindi dall'Alto Friuli fino a Codroipo, giustamente. Ottobre Rosa 2018 è la continuazione di quella che è stata una prima esperienza l'anno passato e colgo l'occasione per ringraziare veramente sentitamente l'azienda sanitaria e i vertici aziendali, ma anche i professionisti coinvolti in questo progetto. Chiedo scusa, vediamo proprio delle foto che ci sono state fornite dall'Andos di Tolmezzo. Sì, due parole per spiegare che questo è uno dei due progetti che contraddistinguono l'Ottobre Rosa promosso dalle associazioni. In questo caso abbiamo il progetto Illuminiamo la prevenzione e ci sono ben 16 comuni del territorio dell'azienda sanitaria 3 che hanno aderito illuminando, e quindi lo faranno dal 1 di ottobre, un sito significativo del proprio comune per ricordare durante tutto al mese alle donne, in una forma magari un po' allegorica, ma però che desta attenzione, l'importanza della prevenzione. Perché Ottobre Rosa questo vuole dire in sostanza sensibilizzare le donne rispetto alla salute del proprio seno e di quanto loro sono le prime responsabili della salute del loro seno. Completando un momentino il discorso riguardo all'altro progetto, quello promosso assieme all'azienda sanitaria, e dicevo ringrazio per questo l'azienda sanitaria e i suoi professionisti coinvolti che hanno dato disponibilità, questo progetto darà l'opportunità alle donne che vorranno aderire di avere durante il mese di ottobre delle visite senologiche e prima mammografia gratuite. Dico prima mammografia perché l'onere del ticket di questo esame sarà a carico dei comitati Andos, Tolmezzo e Codroipo, come un incentivo, se così lo possiamo chiamare, affinché una donna inizi a fare questo esame e poi avrà tutte le indicazioni di quelli che saranno i percorsi nel tempo per fare i controlli in maniera corretta. Ecco signora Sonia, è per questo che ci si deve prenotare per tempo, perché si rischia di rimanere tagliati fuori, ecco il motivo della trasmissione proprio oggi. Sì, è vero, l'organizzazione... E comunque ricordiamo in tutte le aziende sanitarie, ecco oggi abbiamo Tolmezzo ma questo accade per quanto riguarda le visite di prevenzione un po' in tutte le aziende sanitarie. Cioè in tutti i punti ambulatoriali dell'azienda sanitaria 3. Quindi l'organizzazione del progetto prevede una fase di prenotazione che andrà fino a venerdì 28, quindi venerdì di questa settimana, telefonando di pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30 presso i due numeri di telefono che abbiamo indicato nei volantini e nella pubblicità all'evento che abbiamo fatto. Se posso ricordarli li ricordo... Certo, altro che... Anzi, bisogna ricordare, la trasmissione è fatta per questo, proprio per dare un'informazione ai cittadini. Allora diciamo che per la zona di Tolmezzo, Gemona e Tarvisio il numero di telefono da chiamare è 0433 488 700. Ricordo, dalle 14.30 alle 16.30. Mentre per il San Danielese e per Codroipo si chiama il 349 590 3180. Magari li può ripetere? Certo. Per Tolmezzo... Per dare tempo a casa di scrivere. 0433 488 700. Per Codroipo e San Daniele 349 590 3180. Sono due punti di segreteria gestiti dalle due associazioni di volontariato, dai due Andos, con del personale in qualche modo preparato per questo lavoro di accoglimento delle richieste, per cui le donne avranno già un primo contatto, entreranno in qualche modo in questo progetto e poi si sentiranno indirizzate. Ecco, dottor Vilgevani, e ricordiamo che lei tra l'altro è responsabile dei percorsi oncologici praticamente aziendali. Quindi c'è questa sorta di piccola rete oncologica all'interno delle strutture che fanno parte dell'azienda 3. Però siamo in dirittura d'arrivo per una rete oncologica regionale? È questo, no, che lei auspica? Sì, si auspica. Noi professionisti auspichiamo da molti anni che si venga a creare una rete oncologica perché all'interno di una organizzazione sicuramente i risultati per i pazienti e per i professionisti sono migliori. Mi rilaccia quanto ha detto Sonia Piller-Roner partiamo dalla prevenzione, dalla diagnosi precoce. Voglio sottolineare che su 18.000 persone convocate e invitate dall'azienda numero 3 Alto Friuli-Colinare Maggio Friuli bene il 73% ha aderito. Quindi va segnalato uno sforzo molto importante del servizio di prevenzione perché c'è tutto uno sforzo organizzativo di richiami, sollecitazioni, eccetera, eccetera per far sì che le donne aderiscono a questo programma. Ecco, anche dal punto di vista oncologico perché è importante la diagnosi precoce? Perché più è precoce... Più la diagnosi è precoce più è possibile effettuare dei trattamenti meno invasivi sia dal punto di vista chirurgico ma anche dal punto di vista medico. E quindi sicuramente la diagnosi precoce gioca un ruolo fondamentale. e quindi bisogna veramente ringraziare le associazioni di volontariato e tutti quanti coloro i quali si sforzano per arrivare a questa prevenzione. Ecco, io l'ho interrotta che stava parlando di numeri, no? Numeri importanti in Alto Friuli grazie alla sensibilizzazione appunto delle associazioni. Il 73% delle donne nel territorio dell'azienda 3 ha aderito a questo programma ed è un risultato notevole direi anche il migliore in regione anche se per pochi punti. Ma quello che voglio sottolineare è che fare la prevenzione non vuol dire avere per forza un tumore perché sul 73% di 18.000 persone convocate solo 115 sono state le biopsie effettuate e di queste 56 sono stati i tumori riscontrati. Quindi un numero esiguo ma su queste 56 persone è stato possibile fare trattamenti più mirati più leggeri e sicuramente anche più efficaci. D'altra parte la letteratura dimostra che la prevenzione porta a un guadagno in sopravvivenza. Mi piace sottolineare però che la partenza, la diagnosi precoce ma poi c'è tutto un percorso e la parola percorso va presa proprio nel senso letterale del termine percorso. Vuol dire che una donna a cui è stata riscontrata un'anoplasia mammaria entra in un percorso ben codificato e ben organizzato. L'organizzazione di per sé è già una terapia perché significa che la donna ha una porta di accesso sa quale sarà il suo ingresso nell'ospedale quando andrà dall'oncologo quando andrà dal chirurgo quando andrà dal radioterapista viene accompagnata ed ascoltata e il gruppo multidisciplinare che in azienda 3 è stato creato nel giugno del 2017 raccoglie professionisti più idonei per seguire le donne operate al seno e quindi tra il trattamento migliore. Quindi un vantaggio sia per la donna che trova professionisti preparati ma anche un vantaggio per i professionisti che parlando tra di loro e dialogando e consultandosi possono appunto scegliere il trattamento migliore. La terapia poi non è una cosa uguale per tutti è personalizzata quindi vuol dire che bisogna vedere che tipo di tumore abbiamo riscontrato quali sono i desideri e le aspettative della persona il contesto familiare e quindi è uno sforzo molto importante che forse non traspare nella visita quando viene fatta ma che comporta un notevole spirito di sacrificio e è un processo dinamico perché va migliorato anno dopo anno perché le cose in sanità cambiano molto velocemente. Ecco Sonia, gli alleati dello screening quali sono? Eh, diciamo che gli alleati della donna Dello screening e della prevenzione Esatto, gli alleati della donna per combattere contro questa malattia sicuramente è una malattia di rilievo però mi allaccio un attimo solo a quello che ha detto il dottor Vigevani io credo che oggi come oggi per i numeri che ci ha dato e per le informazioni che ci ha dato la donna può permettersi di affrontare una diagnosi di tumore come dire, con un pochino passatemi il termine più di serenità perché le armi ci sono tante e gli alleati contro questa malattia sono indubbiamente lo screening uguale fai la mammografia sono la dieta uno stile dietetico corretto e l'attività fisica noi come Andos proprio alla fine di questo mese gli Andos regionali hanno promosso mi permetto di dare questa informazione hanno promosso un convegno a Villa Manin che andrà proprio ad approfondire questo argomento perché è ritenuto veramente importante avere un certo tipo di stile di vita prendere consapevolezza dell'importanza dell'attività fisica e del movimento nel ridurre i rischi quello che noi vogliamo è ridurre i rischi come quello che vogliamo quando parliamo di prevenzione è fare una diagnosi precoce e i test genomici a che punto siamo? c'è una sensibilizzazione? è che lo dobbiamo dire in velocità perché manca un minuto alla chiusura proprio perché è un argomento ma è un tema che andrebbe affrontato magari in una prossima in una prossima puntata credo che chi è competente anche sicuramente chi è al mio fianco è un tema importante diciamo che sarà un'opportunità in più per un certo numero di donne e credo che veramente se ci sarà un'altra occasione merita parlarne in maniera approfondita ecco ma c'è chi ne approfitta potrà sicuramente selezionare meglio i tipi di terapia a cui le donne devono sottoporsi cercando di screenare dove effettivamente c'è un rischio elevato e dove invece questo rischio è ridotto quindi sarà sicuramente un aiuto nel futuro immediato bene non posso fare altro siamo in chiusura passa velocemente il tempo non posso fare altro che ringraziare la signora Sonia Piller-Rouffer Ronner chiedo scusa e il dottor Enrico Vigevani la signora Sonia presidente dell'Andos di Tolmezzo e il dottor Vigevani direttore della struttura operativa complessa di oncologia dell'azienda per l'assistenza sanitaria 3 Alto, Medio e Friuli Collinare detto tutto grazie per essere stati con noi grazie grazie a voi per averci seguito e con salute e benessere ci vediamo giovedì prossimo sempre alle 13 e 15 arrivederci grazie a tutti grazie a tutti